Benvenuti ad una nuova puntata di Cronache e Commenti, il Consiglio regionale visto dalle nostre telecamere. In questa puntata andremo a toccare alcuni temi, fra cui quello dell'insediamento di due nuovi consiglieri nel parlamentino toscano. E allora come ogni puntata andiamo subito a vedere quali sono le tematiche, gli argomenti dibattuti in aula e protagonisti di questi ultimi giorni nel Consiglio regionale. Insediamento di due nuovi consiglieri, uno per la maggioranza, uno per l'opposizione, vanno a sostituire due dimissionari. Rinvio del dibattito per l'autonomia differenziata, la maggioranza ha proposto un referendum, l'opposizione ha rinviato con un accordo. Gonfalone d'argento ai centri antiviolenza Tosca. Il Consiglio regionale della Toscana ha aperto la sua ultima seduta con l'approvazione per l'ingresso nel parlamentino regionale di due nuovi consiglieri al posto di altri due dimissionari. Per il centrodestra, Francesco Torselli si è dimesso dal ruolo di consigliere perché eletto al Parlamento europeo. Al suo posto arriva Sandra Bianchini, prima dei non eletti nella lista di Fratelli d'Italia per la circoscrizione di Firenze 1. Torselli era dal 2020 capogruppo dello schieramento politico in Consiglio. Nell'ultima sua giornata in regione ha ringraziato tutto il Parlamento regionale. Si chiude un cammino importante perché quattro anni in Consiglio regionale non sono una passeggiata, quattro anni in Consiglio regionale ti insegnano che la Toscana arriva prima di tutto. Io nel discorso di saluto all'aula ho citato una data, quella del 2 novembre del 2023 che è stata forse la giornata più difficile in questa legislatura per la Toscana quando tre province ma non solo sono finite sott'acqua. In quella notte credo che abbiamo dato tutti dimostrazione di cosa significa essere al servizio della Toscana. Nessuno di noi ha fatto un minuto di polemica politica, nessuno di noi ha fatto un minuto di attacco politico in quel momento ma abbiamo deciso di spalare tutti nella stessa direzione nel vero senso della parola. Quello significa essere consiglieri regionali e amministratori di questa regione. Significa essere da sempre i più di parte di tutti. Noi siamo fiorentini poi abituati a dividerci su tutto e su tutti ma al tempo stesso essere consiglieri regionali significa che dopo che ti sei diviso e che ti sei detto in aula di ogni poi c'è un bene supremo che è la regione toscana. Ecco questo è l'augurio che faccio a chi verrà dopo di noi, a chi verrà dopo di me in consiglio regionale, a chi verrà dopo di noi nelle prossime legislature di avere sempre a cuore la regione toscana e pensare che questa viene sempre prima di tutto, prima dell'appartenenza politica, prima dell'appartenenza partitica perché prima di tutto siamo toscani. Al suo posto, come detto Sandra Bianchini, laureata in scienze politiche e attualmente dirigente di Fratelli d'Italia a Firenze. Durante le ultime elezioni del settembre 2020 aveva raccolto 1200 preferenze. Il primo giorno appunto come dicevo prima di assunzione di responsabilità, prima di tutto lo vivo molto così, quindi ho sicuramente dei temi su cui in questo anno e mezzo poi non sappiamo bene ma che voglio affrontare, voglio incidere. Sicuramente il primo tema è quello del lavoro perché io provengo da quel settore, io sono una manager che è sempre occupata di lavoro e quindi questo è il mio tema in cui credo molto e vedo che negli anni non è stato mai fatto molto sul lavoro, sull'impresa, l'impresa naturalmente correlata al lavoro, su un certo target di lavoratori che sono i giovani, le donne e gli over 50. Quindi lavoro, formazione e impresa è sicuramente il primo tema. Il secondo tema che è molto attuale purtroppo è sollicciano. Sollicciano perché è un problema, l'inferno di sollicciano è un inferno che non è di qualche mese, è un inferno che va indietro nel tempo, dovuto sicuramente anche a una direzione e una gestione non efficace, quindi poi mi occuperò di quello che è nell'ambito regionale. Adesso sicuramente la prima volta abbiamo un governo che si occupa di sollicciano, mandando agenti, dando finanziamenti, ci sono 50 agenti che arriveranno nuovi, che vanno formati però perché sono nuovi. Quindi dal punto di vista regionale però dobbiamo anche pensare che in sollicciano non c'è psichiatria 24 ore su 24 e purtroppo il ragazzo che è morto qualche giorno fa poteva accedere. Oppure non abbiamo anche la medicina, si fa più che altro medicina difensiva, più che altro. Quindi insomma ci sono tanti temi sul sollicciano che vanno affrontati. Nella maggioranza invece ha provato il cambio tra i banchi del Consiglio del dimissionario Nicola Ciolini che era subentrato in sostituzione a Elaria Buglietti, eletta sindaca di Prato. Al suo posto Marco Martini, secondo dei non eletti del PD nelle elezioni del 2020 per la circoscrizione di Prato. Martini è stato sindaco di Poggio a Caiano dal 2008 al 2018. Intanto doppiamente felice appunto sia per questa mia esperienza nuova, bella anche, e anche per l'elezione di Ilaria Buglietti al sindaca di Prato. Quindi mi fa molto piacere. ricevo, prendo un testimone importante perché ha fatto un grande lavoro nella sua commissione, alla presidenza della Commissione 2 e anche per tutte le iniziative che ha portato avanti. Quindi sono davvero felice di poter rappresentare il distretto Pratese, l'area Pratese, nel contesto del Consiglio regionale, anche se ovviamente dobbiamo tutti lavorare per la nostra bellissima regione toscana. Però nel distretto abbiamo diverse realtà, non voglio chiamarli problemi perché sono le gestioni, vorrei dire, ordinarie di quelle che è l'amministrazione di un territorio e quindi questioni molto importanti che riguardano l'economia del distretto, che riguardano il lavoro, il lavoro giusto che è importante. Su questo dovremo davvero impegnarci nel Consiglio regionale. Ci sono poi tutti i temi ambientali che riguardano anche la nostra provincia. In particolare a me sta a cuore perché ho fatto il sindaco per due mandati nel comune di Poggia Caiano all'interno della provincia di Prato, quindi il grande parco della Piana al quale anche noi come Poggia Caiano abbiamo sempre aderito. Quindi tutta la questione che riguarda anche la mobilità, i collegamenti Prato e Firenze che ovviamente hanno un impatto importante sul territorio e che deve vedere la realizzazione di interventi e di opere fortemente sostenibili sul piano ambientale. La seduta del Consiglio del 9 luglio scorso è stata però caratterizzata soprattutto dal rinvio del dibattito per l'autonomia differenziata, spostato al 16 luglio prossimo. La decisione è stata presa dall'Aula in avvio di dibattito in seguito a un accordo tra i gruppi di maggioranza e di opposizione. In apertura dei lavori la maggioranza aveva infatti respinto una richiesta di sospensiva con la quale i gruppi del centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia avevano chiesto il rinvio in commissione delle due proposte. I due atti, firmati dai consiglieri di maggioranza Ceccarelli e Scaramelli e dalla consigliera Cinque Stelle Noferi, chiedono l'indizione di un referendum per dare voce ai cittadini sul sì o no all'istituzione dell'autonomia per la Toscana. Sono cinque regioni che approvano questo referendum attraverso la seduta del Consiglio regionale. Noi in Toscana siamo stati i primi a aprire l'iter per approvare il referendum e lo stiamo approvando qui in Consiglio regionale. Poi un giorno prima, un giorno dopo l'opposizione che fa quello che è l'ostruzionismo e quindi magari il Consiglio la prova prima o la prova dopo in Campania è evidente, sono tutti d'accordo sul referendum verso l'autonomia differenziata. Sia la maggioranza di centro-sinistra sia la minoranza di centro-destra che sostanzialmente è d'accordo perché l'autonomia differenziata penalizza le regioni del sud e quindi gli è più facile. Qui dobbiamo reggere il confronto con l'opposizione che fa l'ostruzionismo, ci vorrà qualche giorno in più. Ma la sostanza è che cinque regioni, la Toscana, la Campania, la Puglia, l'Emilia-Romagna e la Sardegna hanno coordinato su un unico testo la richiesta, come recita la Costituzione, per il referendum sul testo Calderoli sull'autonomia differenziata. È giusto che per un'iniziativa che rischia di creare lo spacca Italia, ovvero di toccare profondamente l'ordonamento repubblicano portando le regioni ad essere sostanzialmente autarchiche, è giusto che si pronunci il popolo. Dopo la presentazione di 3.000 tra emendamenti e ordini del giorno collegati alle due PDD che chiedono il referendum abrogativo totale o parziale della legge sull'autonomia differenziata, abbiamo ottenuto il rinvio del Consiglio regionale a martedì prossimo, pomeriggio, quindi di una settimana, in modo tale che abbiamo modo di approfondire politicamente e amministrativamente le due PDD che per quanto ci riguarda hanno già diversi vizi di forma in termini di approvazione, ricordando che siamo in fase di vacazio legis e quindi la legge non è ancora in vigore e ricordando che non si possono abrogare soltanto dei comma, di alcuni articolati all'interno di leggi e norme, ma esclusivamente l'intero articolato. Innanzitutto diciamo che l'opposizione oggi ha messo nell'angolo la maggioranza e l'ha costretta a rinviare di una settimana il punto all'ordine del giorno e credo che questo sia un fatto che per noi vuole rimettere al centro i cittadini toscani e l'importanza che l'autonomia differenziata ha per i cittadini toscani. In particolare per tanti argomenti, per tanti temi che la regione può richiedere al governo di trattare in forma autonoma, come l'energia e in Toscana parliamo ovviamente in particolare della geotermia, dell'ambiente e quindi anche relativamente ai parchi e al sistema ambiente, al lavoro, alla formazione e alla valorizzazione anche della cultura, perché noi in Toscana oltre i musei che fanno riferimento agli uffizi abbiamo anche un sistema museale, 38 musei, quindi sono opportunità che per quanto ci riguarda devono essere nelle mani dei cittadini toscani. Credo che sia evidente una contrapposizione oggettiva fra quello che ho avuto modo di definire in aula il nuovo fronte popolare che ci vede impegnati come Italia Viva insieme a Partito Democratico e a Cinque Stelle su una battaglia importante, non è che si tratta della maggioranza che in questo momento governa la regione, si tratta di tre forze politiche che stanno trovando un punto di convergenza su una questione importante, quella di chiedere il referendum abrogativo di una legge che noi abbiamo definito ingiusta, soprattutto che danneggerebbe le regioni come in nostro caso la Toscana, difendiamo gli interessi dei toscani e come tale la battaglia di natura politica. È evidente la contrapposizione, il centrodestra presente nel Consiglio regionale sta difendendo le stanze e le prorogative del Governo nazionale, è naturale ed evidente, si è contrapposto un fronte popolare, così come definito, che è molto compatto, molto coeso. Per quanto ci riguarda non è una questione di tempi, si può concludere oggi questa discussione, si può concludere domani, possiamo stare qua tutta la notte, noi non indietreggeremo di un centimetro rispetto al nostro punto di vista. A margine del Consiglio regionale, durante l'ultima settimana è stato consegnato anche il gonfalone d'argento ai centri antiviolenza Tosca. La cerimonia di conferimento si è svolta a Palazzo del Pegaso. La motivazione del riconoscimento è stata data per il punto di riferimento che i centri offrono a molte donne che si sentono sole. Questo è un riconoscimento di cui vado particolarmente orgoglioso. Il riconoscimento a Tosca, che è il coordinamento toscano dei centri antiviolenza, è un modo per dirle grazie, grazie per quello che fanno ogni giorno. I centri antiviolenza svolgono una funzione fondamentale in un tempo così difficile. Soltanto nel 2024 a oggi abbiamo 25 donne barbaramente assassinate dalle mani violente di un uomo. Allora soprattutto noi uomini dobbiamo prenderci a carico questa questione, che è una questione di civiltà. Finché ogni donna non sarà libera, non si sentirà libero, noi dobbiamo sentirci corresponsabili di quanto sta avvenendo. Credo che il coordinamento regionale Tosca si meriti questo premio proprio perché i centri d'ascolto, ma non solo i centri d'ascolto perché loro hanno anche delle case protette, sono una rete fondamentale per le donne vittime di violenza e anche per i loro figli, per i loro bambini. Quindi sicuramente intervengano nei momenti di emergenza. Diciamo che hanno aiutato, aiutano e continuano ad aiutare un sacco di persone. Poi loro stesse vi racconteranno i loro numeri, che sono di tutto rispetto, ma sono anche un modo per le donne che hanno necessità di trovare dei punti di riferimento di cui hanno necessità in certi momenti. Grazie, perfetto. Un riconoscimento importante per chi è sul campo, come i centri antiviolenza, e perché salvano quotidianamente delle vite sia le donne che sono vittime dirette di violenza, ma anche soprattutto perché fanno un lavoro di costruzione di una cultura del rispetto tra le persone, partendo dai progetti che fanno con le scuole. Quindi il loro lavoro è duplice, sia quello appunto che riguarda la violenza e l'aiuto alle donne e ai figli che sono vittime di violenza, ma anche alla costruzione di una cultura. È tutto da cronache e commenti. L'appuntamento è come sempre fra una settimana esatta per andare a raccontarvi quello che viene dibattuto, quello che accade, gli argomenti che vengono toccati nel parlamentino toscano. Ci vediamo, come detto, fra sette giorni. Grazie di averci seguito anche per questa puntata.